Buonasera a tutti. Siamo al terzo appuntamento della serie che abbiamo dedicato alle donne e ambiente. È una serie che riguarda, come dire, l'intero parte dall'universo femminile per vedere anche quei stottica femminile e come analizzare i gravi problemi che stiamo affrontando insieme dei cambiamenti che ci stanno aspettando. Il tema che tratteremo oggi riguarda proprio la fine dell'utilizzo delle fonte fossili e la definizione dell'economia circolare e della transizione ecologica. Quindi, come dire, il cuore del problema a cui dobbiamo tutti quanti puntare. Parleranno di questo argomento, abbiamo tre relazioni, introduce Pinuccia Montanari a seguire Giovanna Sartori e infine Enzo Tortello. Pinuccia Montanari è laureata in filosofia e giurisprudenza, si occupa fondamentalmente di informazione sulle tematiche ambientali, quindi questa è un po' la sua attività, e ha avuto anche un'esperienza politica molto importante perché è stata assessore all'ambiente con varie diciture al Comune di Reggio Emilia, a Genova e infine a Roma. Fa parte, anzi, la direttrice del Comitato Scientifico dell'Ecoistituto ed è anche, come dire, anche pubblicato diversi libri, di cui l'ultimo è La spigolatrice d'ambienti, il contributo delle donne alla sfida del cambiamento climatico ed è quindi, come dire, in qualche modo ha lanciato l'ipotesi di questa serie di incontri. Do a lei le parole. Pinuccia a te. Bene, allora io colgo subito l'occasione per affrontare da subito la questione centrale, quella che io ritengo essere appunto una questione centrale, e cioè la questione della fine delle fonti fossili collegato però con il nodo dei cambiamenti climatici. Tra l'altro noi ci troviamo proprio in questo periodo in una fase in cui molti, anche diversi scienziati cercano di contrastare questo problema, questa visione appunto che mette al centro il problema dei cambiamenti climatici. E quindi io vorrei proprio iniziare soffermandomi su quali sono le conseguenze dei cambiamenti climatici. Le conseguenze dei cambiamenti climatici, noi le stiamo vivendo ormai in modo quotidiano. Il mio più che un approccio scientifico vuole essere proprio un approccio che mette in evidenza quali sono gli elementi centrali che emergono da questa prospettiva. Anche proprio per contrastare questa visione negazionista che rischia veramente come anche appunto una visione credo errata del problema del nucleare, rischia di mettere in discussione davvero il futuro nostro. Io ho partecipato a quasi tutte le conferenze mondiali dell'ambiente, la prima nel 1992 a Rio de Janeiro, poi sono stata, ho seguito la conferenza di Parigi, ho seguito la conferenza di Glasgow e noi sappiamo che gli impegni assunti per contenere l'aumento della temperatura, che è il grande problema dei cambiamenti climatici, con le conseguenze che questo comporta, diciamo che appunto gli accordi che sono stati presi erano accordi diciamo non vincolanti fino alla conferenza di Parigi. Poi finalmente, per me questo è fondamentale rispetto a quello che stiamo dicendo, con la conferenza di Glasgow, gli stati che hanno ratificato le decisioni assunte durante appunto la conferenza, si sono assunti anche la responsabilità in modo vincolante dal punto di vista giuridico, come ci ricorda sempre Amedeo Postiglione, di prendere tutte le misure necessarie per evitare appunto i cambiamenti climatici, e cioè l'aumento della temperatura che deve essere contenuta entro un grado e mezzo. E già noi sappiamo che il 17 novembre abbiamo avuto appunto un superamento, esatto, siamo arrivati addirittura ad un aumento del 2%, quindi questo è un dato grave dal punto di vista generale. Le conseguenze peraltro, dicevo, io voglio proprio partire dagli eventi che sono visibili un po' a tutti, come appunto gli eventi alluvionali, l'allagamento delle aree urbane, ma anche ad esempio chi è che emette emissioni? Allora, naturalmente le emissioni sono emesse da appunto dalle fonti fossili e dal loro utilizzo, ma mi vorrei soffermare ad esempio sulle attività agricole, gli allevamenti, metà delle emissioni agricole provengono dagli allevamenti, questo è un fatto che spesso non viene considerato, il settore agricolo rappresenta circa il 10% delle emissioni di gas serra nazionali e tra l'altro queste emissioni peraltro sono dovute in parte appunto a coltivazioni, allevamenti, a usi energetici. Ma soprattutto noi sappiamo che ormai quelli che erano un po' la dimensione fondamentale che ci aiutava un po' a contenere l'aumento della temperatura come ruolo ad esempio della foresta amazzonica, sappiamo che la foresta amazzonica non è più il polmone verde del mondo, il polmone verde del mondo rimane il mare perché negli ultimi 10 anni la foresta amazzonica ha rilasciato il 20% di anidride carbonica in più rispetto a quanta ne abbia assorbita. E questo è un dato molto grave, come anche il rischio dell'Europa sott'acqua, un rischio che veniva denunciato, perché queste sono slide che io diciamo ho messo insieme un po' nel tempo, già da tantissimi anni ormai, già dopo la conferenza del 1992. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto pochissimo e avremmo dovuto invece investire e qui poi c'è anche la mia risposta che darò soprattutto nella seconda parte del nostro incontro che ci sarà nel mese di dicembre e cioè il ruolo fondamentale delle città, perché io ritengo che le città possano avere un ruolo determinante, oltre che le decisioni appunto dei governi eccetera, nel fare questo cambiamento in modo concreto. Noi sappiamo appunto che di fronte alle sfide ambientali noi abbiamo la possibilità di rispondere appunto con una decarbonizzazione. Poi magari Enzo ci parlerà di quali sono appunto dal punto di vista anche energetico le soluzioni a questo problema, ma alla fine delle fonti fossili e la fine dell'utilizzo delle fonti fossili per questa loro appunto conseguenza assolutamente negativa. Qui vediamo un'immagine appunto dei piccoli ghiacciai estinti, come era nel 1850 e come è nel 2017, cioè conseguenze che sono gravissime e che sono assolutamente visibili a tutti. Allora dicevo la risposta fondamentale è quella degli interventi che possono essere fatti nei vari settori a livello globale e a livello soprattutto anche locale. Ho voluto indicare questa mappa dell'inquinamento nel mondo perché ci dobbiamo anche rendere conto di chi sono i responsabili e dove noi siamo appunto collocati in questa responsabilità. Una responsabilità che tocca tutti e quindi tutti noi dobbiamo, come si diceva anche appunto nell'ultima conferenza di Glasgow con cui ho partecipato come espressione della società civile, tutti noi dobbiamo in un qualche modo mettere in campo delle azioni nei vari settori diciamo che ci competono. La gravità dei cambiamenti climatici mi ci soffermo perché ogni volta che accendo raramente ormai la televisione sento sempre appunto considerazioni da parte di scienziati o pseudoscienziati che mettono in discussione questo fenomeno che invece è un fenomeno ormai appunto dimostrato cioè l'estate del 2022 è la più calda appunto estate di sempre in Europa. I fiumi appunto hanno un problema gravissimo di siccità. Stamattina stavo guardando dei dati proprio sulla siccità attuale in Sicilia. Non so se avete anche voi avuto modo di vedere in questi giorni ma la situazione della siccità in Sicilia in questo periodo è gravissima così come lo era appunto grave e lo è stata grave appunto quest'estate proprio a partire dalla portata minima appunto dei fiumi così come sono stati appunto valutati recentemente. Quindi è un dato questo che dal punto di di vista generale secondo me è molto grave. L'impatto dei cambiamenti climatici naturalmente è un impatto che può essere definito impatto diretto e impatto indiretto. Un impatto appunto che ha delle conseguenze diciamo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista delle risorse naturali che dal punto di vista appunto degli ecosistemi. Alcuni esempi molto diciamo molto chiari stanno nel fatto che una risposta fondamentale sta in quello che è un po' anche il titolo del nostro di questo il nostro incontro e io voglio dare solo lanciare solo alcuni spunti cioè la transizione ecologica. La transizione ecologica a mio avviso si fonda su tre parametri fondamentali che sono da un lato la conservazione della biodiversità dall'altro appunto la capacità di contenimento dell'aumento della temperatura e del clima e delle emissioni di CO2 e l'altro ancora è l'investimento molto significativo che dobbiamo fare soprattutto a partire dalle città ma anche a partire dai piani nazionali sulla transizione ecologica. Tutto questo non è così scontato, non è scontato né nei piani nazionali né nei piani locali. Le città avevano messo a disposizione uno strumento molto importante che erano i piani per l'energia sostenibile e per il clima. Questi piani che diciamo indicavano delle azioni a breve termine, a medio termine, a lungo termine, faccio l'esempio del piano di Genova perché è un piano a mio avviso ancora valido anche nelle sue modificazioni così come è stato modificato ma prevedeva appunto anche un monitoraggio perché noi oggi parliamo di transizione ecologica ma quando è ora di mettere in campo le azioni concrete, le azioni concrete sono lente e non hanno niente a che fare con l'urgenza ecologica che si manifesta appunto purtroppo oggi. Sappiamo quali sono gli scenari possibili, come dicevo già l'accordo di Parigi era un accordo per certi versi considerato appunto un accordo non di elevato significato e quindi già c'è stata una grossissima discussione durante la conferenza di Parigi per arrivare appunto a concordare sulla diminuzione dell'aumento della temperatura di due gradi e purtroppo però gli scenari che gli scienziati oggi, di fronte ai quali gli scienziati oggi ci mettono di fronte sono scienziari appunto effettivamente catastrofici. A me non piace usare la parola catastrofe quando parliamo di ambiente ma in questo caso io credo che soprattutto appunto il quinto rapporto ma anche tutti i rapporti successivi abbiano ben evidenziato come le conseguenze possono essere davvero catastrofiche per tutti noi. I tre grandi rischi globali appunto che vengono messe in evidenza, sono stati messi in evidenza addirittura dal World Economic Forum che evidenza appunto i principali rischi globali, i dieci principali rischi globali, diciamo i primi tre sono appunto complessivi con conseguenze gravissime appunto sull'economia, con conseguenze sociali, con conseguenze non solo appunto ambientali, sono quello relativo ai cambiamenti climatici, quello relativo appunto agli eventi meteorologici estremi che stiamo vivendo e quello come ci ricorda sempre Luca Mercalli, la perdita di biodiversità. Noi possiamo ancora fare qualcosa, possiamo agire, ma le conseguenze comunque potrebbero essere molto gravi anche da subito. Faccio solo degli esempi, ecco, la tropicalizzazione e la desertificazione. Si parlava proprio anche oggi sul giornale di come aumentano quei vettori appunto patogeni che a causa della tropicalizzazione e della desertificazione possono portare appunto malattie che sono malattie molto gravi. Quindi l'urgenza di agire è a mio avviso la ragione per cui noi anche in questo corso che abbiamo messo in campo come donne ambiente è la ragione che ci spinge e che ci muove. E allora per andare appunto a ragionare un po', adesso volevo allargare le slide ma non credo di riuscirci, sposto questo perché mi... ecco, volevo dire appunto che molte donne nel tempo hanno in realtà sollevato questi problemi. Noi il nostro corso è donne ambiente, allora il mio tentativo molto veloce è stato quello di andare a recuperare quali sono appunto e quali erano le considerazioni che alcune donne significative nel panorama appunto mondiale hanno evidenti problemi che queste donne hanno evidenziato. Io ho conosciuto Vandana Shiva appunto alla conferenza sull'ambiente di Rio de Janeiro, l'ho conosciuta nell'ambito di un bellissimo incontro che si chiamava Planeta Femme, l'ho conosciuta grazie ad Alexander Langer perché lui era molto amico di Vandana Shiva, me la presentò e lei ci colpì subito appunto per due ragioni. La prima ragione era questo suo legame profondo con la terra, con la sua terra, con la terra appunto dove lei viveva e l'altro con la sua capacità invece di analisi appunto più generale sia per la sua competenza scientifica che per il suo approccio culturale. E il punto che Vandana Shiva ha evidenziato in modo molto significativo riguardava appunto al problema della desertificazione del territorio agricolo vista dalle donne. Vandana Shiva nei suoi libri sostiene che il ricorso diffuso appunto alle monoculture, pur garantendo delle rese agricole elevate, alteri gli equilibri del territorio e costringa a usare dosi elevati di insetticidi che lei già appunto denunciava, parliamo appunto del 90, nel 92, che provocano la scomparsa di insetti indispensabili per l'impollinazione delle piante come le api, le farfalle. Nel suo libro, Le guerre dell'acqua, critica l'utilizzo improprio delle riserve di acqua, le quali invece di venire utilizzate a fini civili dalla popolazione, verrebbero sfruttate fino all'esaurimento per la coltivazione da parte di alcune aziende di piante idrovole, quali la Canada Zut, che era l'Eucabito. Vandana Shiva ritiene anche che gli OGM, quindi è stata la sua grandissima battaglia appunto sugli OGM, a cui noi poi ci siamo anche collegati, utilizzati durante la cosiddetta Green Revolution, la rivoluzione verde indiana, forniti dagli Stati Uniti, che desideravano allontanare l'India da possibili influenze sovietiche e che hanno causato in realtà una gravissima perdita di fertilità del suolo a causa dei concimi chimici necessari alla crescita delle piante che hanno fortemente salinizzato il terreno. Ricordo che proprio su sollecitazione di queste considerazioni di Vandana Shiva noi realizziamo appunto un'importante simulazione del Tribunale Internazionale dell'Ambiente che riconosceva appunto il diritto all'ambiente come un diritto umano fondamentale proprio nella zona di Faenza dove tantissimi agricoltori e soprattutto donne denunciavano appunto gravi malattie come tumori dovuto a questo uso sconsiderato appunto in particolare di insetticidi, di pesticidi eccetera. Naturalmente questo fu un tribunale simulato in cui noi cercamo però di essere vicini appunto a queste donne che diciamo in modo anche abbastanza disperato denunciavano quanto Vandana Shiva aveva già ampiamente previsto. Quindi questo tema della distruzione della biodiversità è un tema che dal punto di vista dell'esperienza delle donne è stato molto diciamo evidenziato. In particolare appunto Vandana Shiva sostiene che la ricchezza di specie animali e vegetali presenti nel territorio, cioè la biodiversità, si è minacciata appunto soprattutto in campo agricolo proprio dalle multinazionali che erano le stesse che agivano anche nell'area della Romagna e che incoraggiano i contadini a coltivare raccolti a cosiddetto alto rendimento impiantando monoculture a detrimento delle centinaia di varietà tradizionali che stanno scomparendo. Un suo libro che cito è Vacche sacre, mucche pazze che denuncia, secondo me è un libro molto bello che denuncia come causa della scomparsa delle razze locali proprio l'allevamento intensivo delle munche e quello dei gamberetti. Quindi come vedete questo legame tra la terra, l'agricoltura, il ruolo delle multinazionali e l'anticipazione di temi come la distruzione della biodiversità che vengono considerati problemi chiave per affrontare appunto questa grande sfida dei cambiamenti climatici. Un altro tema che sempre Vandana Shiva aveva sollevato e che è ancora un tema importantissimo è quello del debito, tanto che poi con Alexander Langer fu creata questa associazione della Campania Nord-Sud che fece tra l'altro un grandissimo convegno importante a Genova presso i magazzini al Porto Antico che si chiamava 500 anni bastano. Quali erano le considerazioni? Le coltivazioni che le aziende multinazionali sementiere propongono ai contadini innescherebbero una dipendenza da semi di ibridi o di pianti OGM, fertilizzanti chimici o fitofarmaci con costi elevati per gli agricoltori. Le nuove colture tenderebbero infatti a essere più sensibili agli attacchi dei parassiti, i semi costosi sostiene Vandana Shiva non si adatterebbero alle condizioni locali e richiederebbero quindi più investimenti in sostanze chimiche e irrigazione. In questo modo i contadini si impoveriscono a vantaggio delle aziende di sementi perché alla lunga i maggiori introiti non coprirebbero le maggiori spese. Ciò, secondo alcuni, avrebbe portato centinaia di coltivatori indiani sommersi dai debiti al suicidio. Una considerazione, credo, di grande importanza. Un'altra donna che, a mio avviso, io mi sono soffermata solo appunto su queste due figure, è una Caroline Merchant che è stata spesso citata anche da Luisella Battaglia anche nel suo bellissimo articolo saggio pubblicato appunto da noi nel volume Spigolatrici d'Ambiente. Ecco, c'è un'intervista a cura di Marco Armiero, molto interessante, in cui vengono messi in evidenza quali sono gli elementi centrali della critica che Caroline Merchant ha effettuato, la critica radicale alla rivoluzione scientifica e alla meccanizzazione della natura. Qui si inserisce proprio nel superamento appunto di una visione riduzionistica appunto della scienza, quindi anche in una prospettiva culturale più ampia. Il mondo che abbiamo perduto, dice Caroline Merchant, era organico. La sua tesi, una tesi suggestiva di grandissimo impatto, sosteneva sostanzialmente che la rivoluzione scientifica bachognana aveva trasformato la natura viva in un mero appunto meccanismo da studiare, da forzare, da sezionare. Non c'era più spazio dentro il nuovo paradigma scientifico per un modo diverso di concepire la natura e il suo rapporto con gli esseri umani. I filoni di pensiero, le pratiche conoscitive che proponevano e praticavano un modo diverso di interpretare la natura diventavano eterodossi a scientifici, spesso messi a tacere non tanto con la forza dell'argomentazione scientifica, ma quella delle armi o spesso appunto con le catene della galera. Queste considerazioni sono contenute in questo libro molto interessante che segna, a mio avviso, la storia un po' anche dell'ecofeminismo, la morte della natura. Ed è tutto concentrato su questo tema Madonna, Ecologia e Rivoluzione Scientifica. Questi riferimenti a queste due figure importanti dell'ecofeminismo ho voluto appunto evidenziarle perché oggi nella nostra analisi anche culturale della critica appunto e della crisi e della sfida dei cambiamenti climatici dobbiamo capire qual è anche il contesto culturale in cui noi e in base al quale siamo arrivati dove siamo oggi dal punto di vista anche della rivoluzione industriale, della rivoluzione scientifica. Dice la Caroline Mershani il mio libro era una critica al ruolo giocato dalla scienza classica meccanicistica durante il XVII secolo e del modo in cui essa aveva portato al dominio sulla natura e infine alla crisi ambientale della fine del XX secolo. Quindi collegando i due temi del dominio sulla natura quindi non un rapporto di relazione, di cura come dice poi Vandana Shiva deve essere il nostro rapporto con la natura ma una visione che fa sì che appunto l'uomo domini la natura. Il libro mostra invece appunto la visione organica del mondo che era stata prevalente fino al Rinascimento e nel quale tutto veniva ritenuto appunto vivo. Tutto questo è stato trasformato in una visione meccanicistica della rivoluzione scientifica del XVII secolo dove appunto in essa la materia era morta, inerte, mossa e vitalizzata solo attraverso forze esterne. La reazione etica tra esseri umani e natura cambiava da una improntata sulla reciprocità ad una improntata sul dominio e sul controllo. Ecco, io penso che questi temi siano temi fondamentali che non possiamo ignorare tanto più in una prospettiva in cui cerchiamo di capire il contributo delle donne e anche la visione appunto delle donne. Noi sappiamo oggi appunto di quali sono i livelli della CO2 nel tempo, del picco che oggi c'è stato appunto rispetto al periodo pre-industriale e anche alla velocità con cui questo cambiamento con la rivoluzione industriale si è manifestato. Sappiamo che invece non stiamo facendo molto perché nel 2022 a fronte di tutto quello che avremmo dovuto fare c'è stato un boom di emissioni di CO2 e addirittura dove si è valutato che abbia pesato molto la ripresa dei voli post-Covid che ci pone anche un problema di stili di vita. Quindi di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici alla fine, alla necessaria fine dell'utilizzo delle fonti fossili noi comunque dobbiamo porci anche un problema di stili di vita nostri, personali, ma anche appunto più complessivi. Questi problemi, i problemi sono tantissimi non li voglio qui evidenziare tutti e comunque noi dovremmo diciamo andare nella direzione di politiche di informazione ed educazione al cambiamento come stiamo facendo con questo corso di mantenimento della integrità ambientale degli ecosistemi della realizzazione di accordi internazionali che possano però svolgere un ruolo concreto, vero rispetto a tutti i problemi che ci sono. Ci sono tanti temi che possono essere poi approfonditi e Giovanna Sartori successivamente ora parlerà proprio di questo aspetto che è importantissimo così come l'ingegnere Enzo Tortelli o la dottoressa Sartori parlerà del problema energetico perché il ciclo di gestione dei rifiuti, energia accanto al sviluppo umano e inquinamento, accanto al problema della lotta alle ecomafie alla tutela della biodiversità marina eccetera sono temi di fondamentale importanza per diciamo costruire un paradigma culturale che sia modificato rispetto a quello a cui noi oggi siamo pertenuti e che stiamo mettendo in campo. I cambiamenti climatici abbiamo detto investire nell'efficienza energetica nelle fonti rinnovabili ma di questo parlerà appunto Enzo ma occorre prestare attenzione appunto dicevo al ciclo dei rifiuti che è un tema centrale perché qui la risposta sta nell'economia circolare che è una risposta diciamo parziale ma sicuramente molto significativa. I problemi che abbiamo sono tantissimi accanto al problema appunto degli inquinamenti del suolo, dell'acqua, dell'aria del depauperamento biologico dei suoli, l'inquinamento visivo, le piacce acide, le fessotele, la distruzione della fascia di ozono noi abbiamo comunque anche il grande problema dei danni alla salute umana perché questo modo di vivere ha conseguenze anche e di produrre soprattutto ha conseguenze molto gravi anche sulla salute umana delle persone. Noi potremmo mettere in campo appunto sia azioni di mitigazione che azioni di adattamento ed è quello che le città hanno iniziato a fare realizzando appunto i loro piani attraverso diciamo una visione sia strategica quindi con, e poi spiegheremo bene cosa sono appunto i documenti strategici e attraverso appunto la pianificazione nelle città. Sono azioni molto serie che le città dovrebbero appunto assumere anche come visione politica in modo serio così come a livello nazionale dovrebbe essere poi messo in campo il piano nazionale di adattamento climatico andando poi a individuare ma qui noi sappiamo che Ispra lo ha fatto ma io non so se ognuno sa nella città qual è il proprio indice di rischio climatico e a mio avviso l'indice di rischio climatico è una delle questioni centrali che ogni città deve affrontare ma adesso mi fermo perché non voglio appunto andare oltre questi argomenti li tratteremo appunto nella seconda parte d'incontro vorrei solo, scusate qui c'è una ripetizione delle depositive volevo anche dire che ci sono delle interessanti risposte che analizzeremo anche successivamente che sono contenute nella laudato sì di Papa Francesco l'ultima considerazione che faccio e poi lascio appunto la parola di nuovo a Federico Valerio è che noi dobbiamo saper leggere i segni dei tempi noi non siamo ancora in grado di leggere i segni dei tempi cioè dovremmo saperli leggere e sapere costruire appunto delle risposte confidiamo che coloro che seguiranno appunto soprattutto speriamo giovani i nostri corsi possano avere appunto almeno uno stimolo a cercare diciamo di applicare sia paradigmi culturali e scientifici diversi rispetto a quelli che ci hanno portato a questa situazione che anche risposte ed azioni concrete e io qui mi fermo bene ringraziamo Pinuccia Montanari per questo suo intervento che ha dato un'idea della complessità dei problemi che dobbiamo affrontare e adesso la parola è a Giovanna Sartori che affronterà un altro tema importante che è quello diciamo dell'uso della materia quindi dell'economia circolare di cui si parla di cui lei è proprio un'esperta Giovanna Sartori è laureato in matematica ha partecipato a diversi progetti del centro di ricerca navale di Genova ed fa parte del comitato scientifico di Ecoistituto Reggio Emilia Genova ed è la sua veste particolare quella di essere stata la fondatrice di questa associazione che si chiama Alverde e che è un'associazione che pone al suo vertice dei suoi interessi proprio la cultura del riuso quindi come dire la risposta al consumismo dell'uso e getta per come dire recuperare la cultura del riuso dei materiali e di inserirli in tutti questi materiali in una nuova economia circolare la parola a Giovanna devi accendere il microfono Giovanna scusate allora mentre preparavo questa presentazione sull'economia circolare mi sono posto alcuni dubbi perché non sapevo bene come impostare la presentazione cioè non la volevo fare troppo elementare non sapendo chi fossero i fruttori avevo paura che da un lato fosse troppo elementare dall'altro invece fosse desse per scontato dei concetti che io conosco mi sembrano ovvi ma non sono noti a tutti quindi in realtà diciamo questo dubbio mi ha portato a cercare da qualche parte quale fosse la conoscenza proprio di questo termine economia circolare fra gli italiani che mi sembra già abbastanza ora ci sono delle parole per esempio intelligenza artificiale e l'altra economia circolare che entrano prepotentemente nei telegiornali nella stampa in realtà se si chiede alla gente per la strada cosa sono ognuno dà una risposta diversa tutti pensano di sapere che cos'è e poi dopo un po' uno non ha più il coraggio di chiedere perché diceva come ne parlano tutti e quindi lo dovrei sapere anch'io allora io esordirei con questa con questa presentazione che si chiama economia circolare questa sconosciuta che vorrei far partire eccola qua perché secondo me l'economia circolare è questa cosa di cui tutti parlano ma nessuno sa esattamente cos'è allora io mi sono appoggiata sui dati che emergono da un sondaggio Ipsos che si svolge ininterrottamente dal 2018 e c'è l'ultima versione del 2023 sulla base di dati del 2022 che si chiama l'Italia e l'economia circolare sotto ho messo il link per chi volesse approfondire l'argomento nel dettaglio comunque io ho riportato ho riportato diversi diversi slide di questa presentazione allora naturalmente qui mi sparisce il sopra non so perché comunque non riesco a leggerlo praticamente dalla figura si vede che esattamente cos'è l'economia circolare dichiarano di saperlo il 27% degli intervistati poi c'è un altro 14% che dice sì ma non sapevo che si chiamasse così vabbè diciamo che lo mettiamo nel novero di quelli che ne sanno qualcosa ed è il 41% tutti gli altri diciamo qualcuno dice l'ho confuso con un'altra disciplina ne ho sentito parlare qualcuno un po' più onesto il 19% dice no non ne sapevo niente quindi in realtà è un qualche cosa che è abbastanza sconosciuto il 41% non è tantissimo se ne parla su tutti i giornali in tutte le salse in tutti i contesti e oltretutto rispetto all'anno scorso il 41% è rimasto prima era 26 e 15 adesso 27 e 14 quindi diciamo che è invariato l'altra domanda è è centrale l'economia circolare per il PNRR certo naturalmente è fondamentale ora qui le risposte sono state vise nella colonna di destra ci sono quelli che conoscono il concetto base di economia circolare e poi invece ci sono tutti gli altri tra l'altro l'indagine vi dico che è stata svolta su un campione di mille persone tra i 16 e i 70 anni divisi equamente c'è un campione molto ben scelto e quindi diciamo rappresentativo della delle opinioni nazionali l'ordine più o meno è lo stesso naturalmente per quelli più avezzi sono più alte e praticamente sono risorse per gli impianti industriali obsoleti ambientalmente quindi vuol dire che praticamente vogliono riconvertire ritengono che sia utile riconvertire impianti industriali incentivare le aziende impegnate sulla circolarità educare i cittadini sostenere la ricerca i più diciamo avveduti comprendono che è molto importante l'eco design cioè praticamente la circolarità cominciare a pensarla fin dalla progettazione dei prodotti per esempio un prodotto che è impossibile da riciclare perché è composto da tre materiali diversi con l'eco design bisognerà evitare di produrlo allora invece parliamo dei lati positivi più del anzi quasi il 70% dei cittadini ritiene che lo sviluppo dell'economia circolare e l'energia da fonti rinnovabili contrastano l'aumento delle bollette quindi sono tutti molto fiduciosi su questa economia circolare in particolare per carburanti e gas su altri argomenti ristoranti bar automoto non si sono espressi comunque una bella maggioranza dice sì e no diciamo è molto basso perché ci sono anche i non soldi parliamo sempre in positivo gli italiani sono molto fiduciosi che i green jobs cioè i lavori legati all'economia circolare saranno sono destinati ad aumentare nel tempo diciamo 48% pensa che aumenteranno 30% pensa che rimarranno più o meno uguali e pochissimi dicono che diminiranno quindi questo è molto positivo adesso arrivano le dolenti note cioè praticamente intervistati su quanto l'Italia sia circolare nei confronti dell'Europa il campione dice che l'Italia sia sotto la media europea quando invece è sopra la media europea diciamo che il 55% del campione addirittura di più di quelli dell'anno scorso quindi siamo proprio non diamo nessuna fiducia alla nostra capacità di essere circolari poi era stata fatta una domanda l'anno scorso cioè del 2022 con dati del 2021 quest'anno non è stata riportata però io l'ho voluta riportare lo stesso perché secondo me i dati non sono cambiati di molto qui ci arriva l'effetto NIMBI cioè vogliamo riconvertire gli impianti vogliamo fare la circolarità vogliamo che questo lo paghi il PNRR però il 51% ha detto che gli impianti devono essere almeno a 10 km se no meglio 20 ma ancora meglio 30 quindi il 51% non li vuole neanche vicino a casa e fra i rischi che teme di avere un impianto circolare vicino a casa sua inquinamento aria acqua incendio traffico addirittura rischio di perda di valore dell'immobile estetica e altro non sa pochissime persone questo si richiama a quello che ha detto Pinuccia nell'inchiesta sulla circolarità è stato chiesto quali sono le preoccupazioni dominanti del campione intervistato siamo qua siamo al 48% più il 31% diciamo che il 70% un po' se ne preoccupa il 48% se ne preoccupa molto il 31% non molto il 15% non se ne preoccupa affatto siamo più o meno al livello della protezione dalla portografia online ora non siamo a alto nella classifica Pinuccia ha parlato di possibili catastrofi ma gli italiani non le temono poi è stata fatta una domanda molto interessante tanto per terminare questa prima parte soltanto sulla conoscenza dell'economia circolare gli hanno detto praticamente gli hanno detto col covid sono state cambiate molte abitudini in poco tempo siete d'accordo sul fatto che si può cambiare anche velocemente sono tutti d'accordo dicono che è possibile per le persone trasformare il loro comportamento molto rapidamente e la ripresa post pandemia è un momento unico per costruire società più resistente di shock adesso siamo nel post pandemia mi sembra che siamo un pochettino rientrati nel sistema normale e allora io però aggiungo che la pandemia ha dimostrato perché le persone trasformano il loro comportamento molto rapidamente quando glielo impongono quando uno è obbligato a farlo se lo deve fare su decisione personale secondo me è un po' un po' meno allora avendo finito questa fase introduttiva che volevo fare perché mi sembrava interessante cos'è questa economia circolare allora vi do la definizione di economia circolare cioè praticamente è quella che è sorta negli ultimi 150 anni molto accelerata negli ultimi 70 dopo la guerra un'economia industriale di mercato basato sulle estrazioni di materie prime che sono risorse naturali sempre nuove sul consumo di massa sulla produzione dello scarto una volta non giunta la fine di vita del prodotto ho saccheggiato dalla rete tutte queste belle figurine senza riconoscere il copyright spero che chi l'ha fatta mi perdonerà praticamente cosa succede che in questo modello la continua estrazione di smissioni di materie anche enfatizzata alla crescente demografica insisto cioè anche l'uomo produce CO2 anche l'uomo diciamo produce gas di marteranti e inquina e anche diciamo non facendo niente se poi ha un'attività industriale per raggiungere un certo grado di benessere ovviamente questo a parità di risorse naturali che non cambiano mai ovviamente il problema si aggrava quindi ovviamente tutti gli effetti che le conseguono invece l'economia circolare dice che i sistemi economici devono funzionare come gli organismi in cui le sostanze e i nutrienti sono elaborati utilizzate per poi rimessi nel ciclo biologico o tecnico questa distinzione la spiegherò meglio in un'immagine successiva dove si capisce la differenza sotto diciamo il cappello dell'economia circolare anche prima del fatto che l'economia circolare fosse teorizzata in maniera precisa erano state diciamo approfonditi i concetti di biomimetica ecologia industriale economia blu non entro nei dettagli di questi tipi di economia ho messo il link chi vuole se le va a cercare allora praticamente si suppone che prima che arrivasse l'industria diciamo il ciclo naturale era chiuso c'era il ciclo delle piante il ciclo degli animali tutte queste cose quando morivano si decomponevano nella terra e con l'energia solare creavano diciamo nuove risorse naturali mentre il ciclo artificiale che è questo ciclo lineare che ho dimostrato prima è aperto materie prime produzione l'utilizzo le butto via nuove materie prime quindi praticamente questo ciclo andrebbe bene solo se le materie prime fossero infinite e comunque in tutti questi cicli di produzione estrazione eccetera non si creassero diciamo problemi per l'ambiente dovuti appunto all'estrazione all'uso di energia e appunto tutta l'energia che serve per trattare queste cose allora si passa dalla cradle to cradle cioè cradle to grave cioè dalla culla alla tomba dell'economia lineare e all'economia circolare che sarebbe dalla culla alla culla quindi ovviamente le materie prime vengono sempre estratte ora naturalmente uno dei capisaggi dell'economia circolare è la riduzione della produzione dei rifiuti cioè alla fonte bisogna cercare di comunque non non produrre prodotti che consumano materia prima anche materia prima seconda comunque meno produzione di rifiuti poi questa ecoprocentazione la produzione che c'è sempre qui però c'è aggiunta la rifabricazione praticamente è come se come si fa adesso che i telefonini vengono ritirati e vengono praticamente rimanufatti refurbishing e vengono praticamente rimessi sul mercato poi c'è la distribuzione che c'è sempre c'è il consumo che c'è sempre però adesso c'è anche l'uso riutilizza la riparazione cioè qui dentro ci sono dei circoli dell'economia circolare che tendono questo prodotto a non farlo passare immediatamente alla raccolta dei rifiuti ma mantenerlo nel ciclo di uso il più lungo possibile poi c'è la raccolta con la differenziata poi qui ci sarebbe il riciclo questi rifiuti residui dovrebbe essere diciamo una piccola quota di rifiuti residui perché non è possibile mettere in circolo tutto quanto però questa quantità di rifiuti residui deve essere minimizzata quindi qui praticamente se abbiamo l'unica soluzione alla fine dell'era del petrolio e dell'energia a buon mercato perché il discorso dell'energia a buon mercato è quello che ha portato a questo sviluppo praticamente senza apparenti limiti e quella della disponibilità infinita dei materiali ecco questa è la distinzione formale del ciclo biologico e del ciclo tecnico ciclo tecnico diciamo che chi usa questi prodotti lo stesso vengono diciamo creati è un utente il quale allunga il ciclo di vita con la manutenzione con l'uso la ridistribuzione la riproduzione e ritorna col disciclo rifiuti inerti discarica dall'altra parte invece ci sono i prodotti biologici allora i consumatori diciamo tipicamente il cibo hanno diciamo vari tipi di processi per trasformare gli scarti in qualche cosa quindi in energia in compost dipende dal tipo di trattamento rientrano nel ciclo e vanno diciamo ritorna a monte praticamente utilizzati al massimo della loro potenzialità allora facciamo un pochino di storie molto breve che poi vi leggerete allora praticamente l'economia circolare comincia nel 66 con questo con questo articolo di Bauding poi rimane un po' lì tutto fermo nel 76 invece c'è un importantissimo articolo che poi è diventato un libro il potenziale della sostituzione dell'uomo della forza dell'uomo per energia questi due Walter Steyl e General Diadri Deno e San Rosa perché è una signora sono un economista svizzera una ricercatrice esperta di sensibilità svizzera e hanno scritto praticamente esattamente l'origine dell'economia circolare come vediamo oggi poi ve l'ho messo perché è interessante la Cina che viene considerata grande inquinatore e per molti versi lo è però ha inserito l'economia circolare già dal 2006 nel piano quinquennale della Cina quindi vuol dire che in realtà anche loro hanno capito il potenziale che c'è dentro quando gli converrà faranno le azioni e però arriviamo quasi ai giorni nostri perché soltanto dal 2010 anzi da 2012 quando è diventata diciamo si è stabilizzata e si è molto irrobustita è stata creata una fondazione da questa L.M. Arthur un'altra signora che ha deliannato praticamente molto bene i principi dell'economia circolare e soprattutto le sue potenzialità quindi ho portato vi ho mostrato una foto di questi qua allora la signora Redè è qua questo è l'economista svizzero questa è Elec McArthur questa è Gunther Pauli che praticamente è il padre dell'economia blu che è un'economia che tutti pensano che sia l'economia del mare ho sentito una conferenza adesso recentemente ma è un'economia che mima la natura è un'evoluzione dell'economia verde poi per analogia per il fatto del colore è diventata l'economia blu questa foto vi fa vedere che praticamente c'è abbastanza equilibrio di genere nell'economia circolare ci sono tante signore quanti signori che se ne sono occupati questo non è casuale parliamo della della signora ElecArthur che che vi ho è una persona molto interessante perché è stata una velista molto giovane giovane almeno dal mio punto di vista perché è nata nel 76 che dopo aver fatto una vita di di record di di traversate solitarie ha aperto nel frattempo una fondazione per la ricerca sul campo cioè una che si dà da fare che ha fondato questa diciamo ha fondato questa fondazione che porta il suo nome che è diventato un riferimento per tutti per gli stati per le istituzioni per i cittadini per le aziende per chiunque e ha detto che se noi possessimo costruire un'economia che usa le cose invece di consumarle potremmo avere costruito un futuro questo diciamo che l'idea della fondazione dell'economia circolare è nata una volta che lei era in mezzo all'oceano lontana 2500 chilometri dalla costa e si è resa conto che quello che aveva sulla barca era tutto quello che aveva non era più quindi presto o tardi sarebbero finite quindi avrebbe dovuto usarli con un'oculatezza e con intelligenza e quindi ha trasfigurato questo suo pensiero in un'analogia con la condizione umana sul pianeta siccome era un attivista come abbiamo detto ha creato questa fondazione vi ho fornito il link alla prosecuzione di questa storia quindi praticamente l'economia circolare è un modello di economia globale quindi è un modello che comunque punta alla crescita economica però la disaccoppia dal consumo di risorse che sono limitate cioè noi dobbiamo migliorare la nostra condizione crescere senza erodere le risorse che è una cosa che sembrerebbe ovvia ma purtroppo non lo è adesso vi dico alcuni punti di uno studio importantissimo che ha prodotto questa Ellen MacArthur Foundation in collaborazione con McKinsey Center of Business e il fondo Tedegasso per l'economia della sostenibilità l'ha fatto nel 2015 otto anni fa guardando i risultati al 2030 mancavano 15 anni adesso ne mancano 7 però è diventato un punto di partenza per la Commissione Europea e questi dati sono sempre stati rivisti ma mai negati quindi continuano a valere a piccola di praticamente lo studio si riferiva alla differenza fra uno sviluppo lineare e uno sviluppo circolare dell'Europa allora qui parliamo di numeri quindi i numeri erano al 2015 adesso naturalmente vanno ricalcolati comunque questo è quello noi non lo sappiamo adesso a livello di circolarità del sistema però possiamo anche diciamo farci un'idea quindi il doppio dei benefici complessivi economici del modello lineare l'aumento dell'11% ora qui dice 3.000 euro adesso non lo so rispetto al percorso lineare aumento del PIL dell'11% dal 2030 rispetto al 4% quindi più 7% di PIL riduzione della perta di tempo del 16% al 2030 del 60 al 2050 anche il tempo è denaro le emissioni di idrita carbonica dimezzate entro il 2030 rispetto ai livelli attuali ripeto quelli del 2015 il 48% dei tre settori analizzati che avevamo visto nella slide precedente che è praticamente l'auto il trasporto l'edilizia e l'agricoltura è ridotto dell'84 nel 2050 il consumo di materie prime di queste cose potrebbe scendere del 32% e del 53% nel 2050 poi ci sono 65 pubblicazioni accademiche che dimostrano che gli studi esistenti indicano gli effetti occupazionali positivi che si verificano nel caso in cui l'economia circolare fosse implementata su questo argomento ci sono degli studi specifici nei vari settori che praticamente sono stati fatti in questi otto anni però ovviamente dipendono dal tipo di settore quindi ogni settore avrà una perdita di posti di lavoro dovuta alla perdita di posti di lavoro tradizionali dovuti all'economia circolare e un incremento di posti di lavoro e ci sono i saldi comunque i saldi dovrebbero essere positivi per tutti i settori invece adesso parliamo delle barriere dei limiti anche qui le imprese per esempio si è dimostrato che hanno poca consapevolezza conoscenza e capacità di mettere in pratica le soluzioni dell'economia circolare che comunque le soluzioni dell'economia circolare non è che c'è il libretto di istruzioni che dice devi fare questo e questo e questo cioè ogni azienda deve cercare di diventare circolare con degli studi interni che sono anche piuttosto costosi e portano via parecchio tempo lo stesso i sistemi le infrastrutture i modelli economici e la tecnologia di oggi bloccano l'economia in un modello lineare cioè io ho costruito un'economia lineare se la devo smontare farla diventare circolare devo cambiare infrastrutture sistemi eccetera gli investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza dei modelli imprenditoriali innovativi come ho detto nel punto precedente possono sono insufficienti perché sono percepiti come complessi rischiosi cioè io devo smontarmi la mia azienda senza sapere in realtà se avrò dei benefici quindi ovviamente bisogna fare delle analisi precise i consumatori potrebbero non apprezzare sufficientemente i prodotti sostenibili quindi se io devo comportarmi in una maniera diversa da quello che mi comporta adesso potrei dire ma io veramente non ne voglia oppure se devo pagare un po' di più devo dire che questi comportamenti se si fanno cambiare in maniera intelligente poi comunque non portano particolari problemi stamattina sono andata a fare la spesa tutti avevano il sacchetto portato da casa nessuno ha preso il sacchetto del supermercato fino a forse l'anno scorso due anni fa questo non succedeva è un cambiamento diciamo gentile dei comportamenti forse anche creato dal fatto che ti fanno pagare il sacchetto e forse questo ha un po' cambiato la percezione almeno a Genova non sono le altre città e poi i prezzi non rispecchiano il vero costo per la società dell'uso di energie non rinnovabili questo lo dirà poi anche cioè in realtà sul prezzo dell'oggetto non c'è mai il costo ambientale le famose esternalità perché comunque le paga la collettività non le paga il singolo che acquista e poi i segnali politici per la transizione verso l'economia circolare non sono abbastanza forti e coerenti cioè in realtà anche l'Europa che comunque queste cose le ha teorizzate le ha scritte ha scritto un documento strategico e rinnovato recentemente poi in realtà diciamo che non è che si è impegnata più di tanto nel dare dei messaggi infatti infatti lui per esempio nell'ultimo documento strategico di economia circolare dice sostenere la riparabilità durabilità riciclabilità mediante alla progettazione cioè tu mi devi progettare qualche cosa che poi sia facilmente riusabile facilmente riparabile facilmente riciclabile e non tutto un blocco semplificare l'operazione di smontaggio di utilizzo di riciclo di prodotti elettrici elettronici perché sugli elettrici elettronici hanno capito che bisogna far così ma su altri prodotti magari meno più informazioni della riparabilità cioè imporranno di mettere a disposizione gli schemi tecnici manuali i pezzi di ricambio invece di buttarli via dopo 5 anni devono mettere a disposizione almeno per 10 anni differenziare i contributi finanziari versati ai produttori questo è importante perché siccome c'è il regime di responsabilità essere del produttore se io ti produco un bene che a fine vita mi costa tantissimo da gestire pago di più e allora magari poi io azienda produttrice mi attivo a fare un prodotto invece più circolare naturalmente un programma di test indipendenti perché vogliono capire quali sono i problemi con essi alla potenziale obsolescenza programmata che come avevo detto qualche anno fa al convegno della bioetica qualche volta è basata su una diciamo strategia di vendita che ti fa rompere le cose perché così poi tu le cambi e quindi le ricompri delle volte anche con atteggiamenti truffalvini quindi bisogna capire questa obsolescenza programmata come cercare di anche diciamo l'obsolescenza programmata psicologica cioè il telefono se non ho l'ultimo voglio dire me ne posso fare una ragione migliorare le garanzie sui prodotti e combattere fatte etichette verdi adesso è facilissimo dire che un prodotto è sostenibile anche sostenibilità è una di quelle parole come l'economia circolare l'intelligenza artificiale che si dice tutti lo dicono e nessuno poi la sa definire bene allora praticamente questa sarebbe la soluzione diciamo generale che di cui le leggi le norme eccetera cercano di ottenere promuovere nuovi modelli l'impresa bloccare gli investimenti mobilitare imprese consumatori sostenere la creazione di posti di lavoro e competenze e questo e questo diciamo lo voglio far notare perché le competenze dell'economia verde che è un'economia locale perché è un'economia sul territorio mentre noi i prodotti li compriamo e vengono prodotti chissà dove e li smaltiamo qua e delle volte li spediamo anche in paesi compiacenti che si prendono il nostro inquinamento ci vogliono le competenze cioè io se devo riparare un elettrodomestico ho bisogno dei pezzi di ricambio dei manuali in modo che bisogna del tecnico quindi la scuola si dovrà attivare per creare queste professionalità che al momento diciamo sono un po' carenti modernizzare la politica in materia di rifiuti e i suoi obiettivi quindi bisogna semplificare tutte queste leggi sui rifiuti e rendere l'economia circolare effettiva e fissare uno standard relativo all'uso efficiente delle risorse se no se io non metto dei termini qualitativi posso dire più efficiente meno efficiente ma non vuole dire niente quindi questi fattori sono fondamentali però è necessario del contributo delle politiche per dismescare le forze centrifughe che si appongono alla circunalità e adesso ho quasi finito però volevo fare una riflessione finale su questo argomento questo è una cosa che vi è familiare da tutte le parti si vede riusa riduce ricicla a parte che io metterò riduce e riusa ricicla questo cosa vuol dire vuol dire che c'è un'economia lineare l'abbiamo vista un'economia del riciclo ogni tanto qualcosa si recupera però va a finire comunque nei rifiuti è un'economia circolare che praticamente rimette in circolo tutto abbiamo detto che questa non è possibile però comunque concettualmente lo è bisogna chiarire perché questa è una cosa veramente importante soprattutto anche alla luce delle decisioni che oggi sta prendendo la comunità europea per favorire diciamo comunque il riciclo nei confronti dell'uso che il riciclo è una cosa molto importante è un tassello importantissimo dell'economia circolare ma ha i suoi limiti perché per riciclare bisogna raccogliere bisogna trasformare bisogna spostare bisogna trasferire bisogna trattare quindi praticamente e non tutti i materiali sono riciclabili all'infinito quindi ogni operazione di riciclo comporta una serie di costi e una serie anche di peso sull'ambiente e poi ogni operazione di riciclo comporta diciamo quasi sempre un ovvio aperito del loro economico dei meri adesso per esempio ho letto un articolo sulla rigenerazione dei pallet praticamente i pallet prima li trituravano e ci facevano legno legno truciolare adesso li raccolgono tal quale li rimettono a posto e li rivendono questo mantiene il valore economico del pallet perché naturalmente diciamo i costi per fare questa operazione sono sicuramente inferiori al prodotto sicuramente migliore invece l'economia circolare richiede lo scopo principale che le risorse utilizzate abbiano una vita più lunga possibile sta trasformandosi in rifiuto quanto più tardi possibile l'economia circolare ben prima del riciclo contempla il riuso la separazione lo scambio la condivisione ho messo tutti i termini che vengono usati per questi tipi di economie e ho messo anche il link se uno se li vuole studiare comunque è ovvio prima di riciclare bisogna girare molto nel del circolo del riuso riparazione eccetera eccetera questa è la figura di prima che esprime questo concetto cosa succede prima che le cose vengano buttate allora diciamo che per finire ho scritto come si faceva una volta si usavano le cose si riparavano si ramendavano il calzolaio aveva da riparare le scarpe i vestiti si scambiavano quando non si poteva più utilizzare si utilizzavano le parti per altre funzioni restava tutto in circolo i beni materiali uno di consumo avevano un altro valore ma non solo diciamo parliamo del passato in Francia è uscita diciamo proprio adesso era già uscita per i prodotti elettrici elettronici adesso è uscita per i prodotti tessili un contributo un bonus ramendo cioè praticamente chi porta le cose ad aggiustare dal calzolaio o dal sarto riceve un contributo di mi sembra dai 5 ai 25 euro che servono per coprire i costi quindi è un incentivo sia per il cliente che fa fare il lavoro sia per chi lo fa perché comunque ha un mercato sicuramente superiore quindi il bonus ramendo per esempio queste sono le operazioni pratiche che ovviamente le possono fare solo gli stati e quindi l'economia circolare è l'economia di mia nonna eccola qui la parte femminile della presentazione cioè un'economia che come ho scritto nell'articolo di spigolatrici d'ambiente è un'economia del passato ovviamente declinata con quello con quello che è successo nel frattempo cioè praticamente un'economia più attenta è un'economia che non nega lo sviluppo ma non vuole sottrarre dalla terra le risorse che sono limitate grazie per l'attenzione io ho finito bene ringraziamo Giovanna Sartori per queste sue illuminanti queste sue illuminanti conclusioni a parte illuminante chiudo lo schermo perché non voglio partecipare al riscaldamento globale ma anche al riscaldamento del mio pc che si sta surriscaldando quindi spengo bene anche l'economia della nonna comunque richiede energia e come richiede energia il mantenimento della vita in tutte le sue forme su questo argomento che sicuramente è quello più importante abbiamo un esperto che è Enzo Tortello Enzo Tortello è un ingegnere elettrotecnico che ha passato direi proprio una vita a occuparsi di grandi macchine elettriche lavorando con l'ansaldo con l'ansaldo energia in particolare tra l'altro è anche autore di brevetti questa sua vita diciamo così professionale che lo ha messa a confronto con appunto il motore della grande macchina produttiva italiana e internazionale Tortello si è anche occupato di altri argomenti insomma fa parte del comitato tutela ambiente del Genova centro-ovest che è un'associazione che si occupa di qualità dell'aria in questo quartiere della città ed è anche presidente dell'Ecoistituto Regione di Genova a lui la parola su come appunto con quale forma di energia sarà possibile come dire realizzare questi grandi cambiamenti che sono stati in qualche modo preannunciati e ospeccati dalle prime due relazioni a te Enzo grazie io torno sempre diciamo a citare il discorso il secondo principio della termodinamica perché ho sempre l'impressione che non tutti l'abbiano presente cioè ogni trasformazione di energia rendimento inferiore ad uno ovvero comporta delle perdite in altro modo si può dire che l'entropia dell'universo è in aumento scusate ma allora sarò abbastanza noioso perché citerò tendenzialmente dei numeri e diciamo non sempre tutte le persone li gradiscono comunque ricordo quali sono gli obiettivi europei che è la riduzione del gas serra e del 55% rispetto al 1990 entro il 2030 e neutralità climatica entro il 2050 andiamo a questo punto a vedere quali sono i consumi di energia elettrica in Italia i numeri fanno riferimento al 2021 erano 300 100,9 tervattora il numero probabilmente non dice molto a molte persone però se andiamo poi a vedere ci sarà un'interpretazione un po' più semplice i consumi totali di energia in Italia nel 2021 i dati sono in kilowattora sui consumi totali elettrici e termici di trasporto sono a 1765 terro wattora quindi se torniamo alla slide precedente abbiamo che in pratica i consumi energetici totali sono circa più di 5 volte quelli elettrici perché questo è importante è importante per il semplice motivo che stiamo spingendoci verso un utilizzo sempre più ampio dell'energia elettrica quindi dobbiamo pensare che rispetto a quello che è la situazione attuale dovremmo riuscire ad avere non dico 5-6 volte l'energia disponibile a livello di elettricità però anche perché ci sono dei consumi che non si possono elettrificare ma comunque dovremmo fare un salto piuttosto elevato guardiamo quindi il parco elettrico italiano e nel 2021 a fine del 2021 avevamo 100 circa 120 gigawatt di installato come generazione elettrica di cui già il 58 gigawatt erano rinnovabili quindi praticamente il 50% di quella che era il parco di quello che era il parco elettrico italiano era fatto di rinnovabili però non vuol dire che in pratica avessimo metà dell'energia prodotta da rinnovabili perché come sappiamo le rinnovabili non sono diciamo delle fonti continue il vento non spira sempre alla velocità corretta e ancora meno che meno abbiamo che il solare di notte o in certe condizioni non genera energia allora di quel numero che avevamo detto cioè delle 58 gigawatt rinnovabili abbiamo qua la partizione in fotovoltaico che certamente fa la parte del leone eolico idraulico e poi bioenergia e geotermico geotermico è una quota piuttosto bassa però bisogna tenere presente che lo sfruttamento dei campi geotermici è quasi al massimo in Italia non è che ci sia grandi possibilità di aumentare diciamo praticamente dal secolo non dal secolo scorso dall'inizio del secolo scorso che l'energia geotermica viene sfruttata al massimo delle possibili se guardiamo quindi gli impianti fotovoltaici che come abbiamo detto prima erano a 22.6 gigawatt quindi il massimo della porzione rinnovabile abbiamo che il 39% è inferiore ai 10 kilowatt il 35% tra i 10 kilowatt e un megawatt il 25% sopra un megawatt da gennaio d'ottobre scusate a settembre del 2022 sono state connesse alla rete oltre 126.500 impianti quindi un numero piuttosto notevole è dato dal fatto come vedremo poi la prossima non la prossima volta ma la prossima volta in cui parleremo di questi argomenti in pratica sono moltissimi gli impianti di piccola potenza a livello proprio di cittadino quindi abbiamo che invece gli impianti eolici erano all'88% di potenza superiore al megawatt e in particolare veniva segnalato che 14 di questi erano stati realizzati nei primi trimestri del 2022 allora tra gennaio e settembre 2022 gli impianti che producono l'energia rinnovabile hanno prodotto 79.6 kWh coprendo il 33% del fabbisogno elettrico nazionale quindi come avevamo fatto notare prima c'era questo discorso che non essendo fonti continuative pur essendo il 50% del parco elettrico di tipo rinnovabile copriva soltanto copre il 33% qui c'è un raffronto con i corrispondenti mesi del 2021 in cui la quota parte da rinnovabili era il 38% perché questa questa riduzione è collegata al fatto che c'è carenza di acqua abbiamo meno pioggi per cui chiaramente l'idraulico ha una parte abbastanza importante e quindi avendo siccità siamo costretti chiaramente a ridurre cioè automaticamente si riduce la produzione di energia adesso qua do alcuni numeri di riferimento che sono le ore di insolazione dei medie più o meno orientative al sud al centro e al nord vediamo che tra sud e nord effettivamente c'è una differenza abbastanza importante perché sono circa 400 ore all'anno di differenza e questo poi si riverbera sul fatto che quando uscirà il cosiddetto decreto relativo alle rinnovabili probabilmente troveremo che l'incentivazione per il nord sarà superiore a quella per il sud per gli impianti diciamo del comune cittadino ma questo è un argomento che riusciremo a scoprire quando effettivamente verrà licenziato da Bruxelles il decreto che è stato mandato appunto alla comunità europea per quanto riguarda invece l'eolico abbiamo delle 2200 ore dell'anno come tempo di produzione quali sono gli obiettivi adesso abbiamo visto qual'era la situazione qual'è l'obiettivo dal punto di vista climatico e vediamo gli obiettivi dal punto di vista energetico allora a seconda della penetrazione dell'elettrico che al momento non si sa quale sarà tendenzialmente perché dovrebbe essere una diffusione estremamente ampia comunque nel 2050 si fanno delle previsioni 200-300 gigawatt non è che da 200-300 ci sia poca differenza però al momento non è che riusciamo a quantizzare del tutto questo numero orientativamente quindi se fossero 300 gigawatt in pratica dovremmo avere circa tre volte il parco elettrico attuale allora nel 2022 in Italia sono stati installati 3 gigawatt di nuovi impianti per rinnovabili elettriche 2,4 di gigawatt di fotovoltaico e 0,5 gigawatt di eolico come avevamo visto prima il diciamo che la diffusione della generazione da solare è certamente molto più ampia di quanto non lo sia per l'eolico comunque nonostante questi numeri non siano tanto bassi rispetto al passato siamo ancora lontani dai 10 12 gigawatt annui che servirebbero per mettersi al passo con gli altri paesi europei infatti vediamo che nel 2022 sono stati installati nuovi impianti fotovoltaici ed eolici in Germania per 11 gigawatt in Spagna 9 Polonia 6 in Francia 5 tenere presente che la Francia probabilmente avrà delle difficoltà in futuro anche perché ha una grande quantità di impianti nucleari e uno dice questo cosa vuol dire sono impianti nucleari piuttosto vecchi tant'è vero che la loro vita è stata diciamo allungata sui 40 anni dopo una serie di stress test che erano stati effettuati dopo i problemi di Fukushima e quindi c'era stato un tentativo di verificare se questi impianti erano sicuri di conseguenza è stata aumentata la vita di questi impianti dicendo che continuano ad essere sicuri ma la Francia si troverà a un certo punto ad avere questi impianti nucleari tutti vecchi e quindi dovrà ricorrere anch'essa ad altre fonti e appunto il discorso del nucleare diciamo che per quanto riguarda l'ecostituto e non solo siamo piuttosto contrari sappiamo benissimo che c'è stato un referendum nucleare nel novembre del 1987 e ce n'è stato un altro nel 2011 in pratica non è che il nucleare sia stato abolito ma è una moratoria per cui diciamo è congelato nonostante quello che si sente dire a livello di governo in questo periodo ci sono due concetti che sono fondamentali il nucleare di quarta generazione non esiste non non è che sia una cosa dietro l'angolo avremo la possibilità chissà tra quanti anni di avere degli impianti nucleari a fusione ma al momento diciamo questo non esiste e non si prevede che sia a breve termine in aggiunta uno dei principi fondamentali è che non esiste il nucleare sicuro questo anche in caso di si riuscisse a tenere delle diciamo degli impianti a fusione ormai a livello industriale avremmo comunque che il nucleare questi impianti non sarebbero sicuri ed in aggiunta diciamo che il problema dei diciamo delle scorie non sarebbe comunque risolto perché ce ne sarebbero meno ma comunque sarebbero sempre presenti qua ci tengo sempre a evidenziare un libretto che è molto piccolo del professor Angelo Tartaglia che è Spaccare l'atomo in quattro che in un centinaio di pagine effettivamente dà un panorama completo di tutti quelli che sono le problematiche del nucleare qui ho riportato una serie di fake news che sono sostanzialmente quelle che vi avevo già detto il nucleare pulito non è vero il trasporto dell'energia nucleare agevole e sicuro non è vero la possibilità di incidenti nucleari di ultima generazione è minima e così via l'eliminazione delle scorie è un problema risolvibile e abbiamo tutta una serie di fake news che vi invito a leggere ve la lascio nelle diapositive tenere presente che ha anche il discorso che si fa attualmente degli impianti nucleari modulari di bassa potenza quindi 100-200 megawatt che sono più o meno un ventesimo un decimo delle potenze massime raggiunte con dei gruppi nucleari che vanno attorno ai 2 gigawatt cito Olchiluoto in Finlandia e quello che deve ancora entrare in servizio è Flamanville 3 in Francia questi impianti nucleari di piccola potenza sembrano avere un futuro a breve sono quelli a cui fa riferimento il governo in generale perché qualcuno dice che sono più sicuri ma non è vero e peraltro sono impianti che condurrebbero a fare un trasporto più diffuso sia di scorie sia di materiale di combustibile nucleare quindi sarebbero più esposti essendo un numero superiore ad eventuali azioni di terroristi comunque questi questi impianti da 100 200 questi gruppi da 100 200 megawatt stanno andando per la maggiore non ancora realizzati in generale per il semplice fatto che rispetto a una volta costerebbero molto meno in passato c'era il discorso che i più grossi erano le centrali percentualmente per kilowatt o megawatt diciamo meglio il costo diminuiva attualmente con questi questi gruppi modulari da 100 200 megawatt invece tutto sommato avremmo dei costi contenuti e soprattutto dei tempi limitati tenere presente appunto che per quanto riguarda le grosse centrali di Olpiluoto che avevo citato da circa 2 gigawatt e l'equivalente di Flamanville 3 che non è ancora stato realizzato non è stato ancora completato in Francia abbiamo avuto dei costi doppi rispetto al preventivato e dei tempi tre volte tanto qua ho fatto un accenno all'idrogeno perché si parla molto dell'idrogeno e direi che la cosa che ho evidenziato intanto che l'idrogeno scusate l'idrogeno è un vettore non è un'energia dato che non si trova da solo in natura e che per produrlo è necessario un contributo di un altro tipo di energia attualmente avere dell'idrogeno è molto costoso abbiamo se partiamo dall'acqua utilizziamo praticamente abbiamo dei rendimenti che sono globalmente tenendo conto delle varie conversioni arriviamo anche al 25% di rendimento e gli elettrogenizzatori che permetterebbero di arrivare l'idrogeno dall'acqua dovrebbero andare per essere diciamo coerenti con gli obiettivi ambientali dovrebbero utilizzare l'energia solare o l'energia o l'energia eolica mentre vediamo da quanto succede parzialmente nel mondo che l'idrogeno è l'unico carburante che comunque lo si usi in motori termici o in cella combustibile non produce emissioni inquadranti ma semplicemente acqua dicevo che l'idrogeno appunto per ottenerlo attualmente richiede una grande quantità di energia e l'energia non è quella necessariamente quella solare o quella diciamo eolica qui vabbè è il discorso che è utilizzato nelle cella combustibile l'idrogeno si combina con l'ossigeno per produrre energia elettrica e acqua per le sue caratteristiche l'idrogeno verde è quello che appunto si ottiene utilizzando un'energia eolica o l'energia da solare può giocare un ruolo decisivo in un mondo a zero emissioni l'elettrificazione tramite energie rinnovabili sarà la strada principale oltre che la più efficiente per la decarbonizzazione però ci sono come dicevo all'inizio perché dicevo che non tutto verrà praticamente elettrificato perché ci sono dei consumi finali che ad oggi sono più difficili da decarbonizzare tramite un processo di elettrificazione diretta qui è dove l'idrogeno verde può penetrare per realizzare la piena decarbonizzazione questi settori sono anche chiamati hard to obey e consistono principalmente nel settore industriale l'aviazione e il marittimo qua arriviamo a una slide estremamente complessa che però vi lascio poi leggere con tutta calma quello che voglio assolutamente evidenziare che c'è stata gente che si è sbizzarrita a dare i colori all'idrogeno sulla base dell'energia da cui si parte abbiamo l'idrogeno nero che è quello che si ottiene dalla gasificazione del carbone poi abbiamo abbastanza nominato quello l'idrogeno blu che si ottiene praticamente dal gas metano tramite steam reforming da fonti appunto fossili e abbiamo l'idrogeno viola chiamato anche da qualcuno rosso o rosa che praticamente viene diciamo in cui l'idrogeno viene ottenuto per elettrolisi tramite la corrente prodotto da una centrale nucleare poi quello che si auspica di poter utilizzare nel prossimo futuro è l'idrogeno verde come dicevo quello che praticamente viene l'elettrolisi attraverso da fonti rinnovabili e quindi questo è più o meno il panorama perché ho fatto questa distinzione perché sentiamo parlare tutti quanti di questi oggetti questi questi colori che sono abbastanza così singolari perché sono di recente invenzione qui c'è i riferimenti costi e rimpianti che è l'ultima parte della presentazione e preciso intanto che sono valori che non sono univoci perché in pratica portano a prendere come riferimento i costi delle varie fasi praticamente dovrebbe essere l'impianto visto a vita intera e chiaramente il peso il costo che viene dato ad ogni impianto è abbastanza opinabile comunque esistono esiste il cosiddetto LCOE che è il costo livellato degli impianti che viene calcolato da diverse diversi enti internazionali allora recentemente ho visto questi numeri che purtroppo devo dire che non sono riuscito poi a estrarre da quello che è il report del della IEA il più recente che è quello del 2023 lo ho visto citati in un articolo da fonti abbastanza seria e vediamo che il nucleare quindi è importante come dico anche se il numero in assoluto non è verificabile non è verificato univoco è importante vedere il trend vediamo che il il solare ad esempio sta diventando molto molto più favorevole come costi rispetto a un nucleare l'eolico onshore pure lui è abbastanza vantaggioso quindi vi dico non prendiamo per buoni questi numeri in valore assoluto però la tendenza è questa oggi come oggi un impianto solare soprattutto se non sono impianti solari di piccola potenza quindi non quelli casalinghi costano decisamente meno del nucleare questa si legge molto male comunque è una tabella che ridice le stesse cose e sono i numeri che però ha tirato fuori l'ente la SAR quello prima era l'International Energy Agency questo qua invece è la SAR tutti quanti si danno da fare per evidenziare questi questi costi a vita intera vediamo comunque anche in questo caso che il il solare addirittura questo sarebbe il se non ricordo male il solare con il l'accumulo sembra essere già ad oggi più conveniente anche per questi rispetto al nucleare spero di aver dato un panorama abbastanza così favorevole alla situazione perché tutto sommato direi che è un buon è una buona notizia il fatto che il solare globalmente venga a costare meno di un impianto sempre a valore di chiaramente sono valori specifici riferite al megawatt quindi il solare sta costando di meno e penso che lo costerà sempre meno rispetto al nucleare e poi c'è anche il dire una cosa nella valutazione del nucleare bisognerebbe tenere conto che i costi per poi lo smaltimento non è che siano costi costi certi perché al momento non esiste nessun ricovero nessun deposito per le scorie cioè non esiste al mondo in questo momento se non quello che hanno costruito attualmente ad occhi luoto sotto la centrale in generale però possiamo dire che i tentativi di costruire in Italia non si è ancora come tutti sanno non è ancora stato deciso niente praticamente perché hanno individuato un certo numero di siti in Francia non sono riusciti in Germania hanno fatto dei tentativi e poi hanno avuto dei problemi perché erano permeabili all'acqua e questo ha costituito un grave danno niente vi ringrazio per l'attenzione se c'è qualche domanda sono disponibile ringraziamo Enzo per la sua relazione che ci ha dato un quadro insomma di cosa anche delle difficoltà che avevamo comunque da affrontare anche per quanto riguarda il tempo dell'energia anche se ci sono delle interessanti prospettive appunto invito se ci fossero delle domande ad alzare la mano per eventuali domande ai relatori allora c'è un intervento Marco Lobrandi per caso no ho condiviso un file se vuoi dire qualcosa Marco ciao ho soltanto voluto condividere non è materiale mio è materiale di giusti che l'ho visto presentare durante recentemente ad un convegno e qui dava una sintesi di quelle che sono le ipotesi di decarbonizzazione totale a 2050 riesce mica a condividere lo schermo così vedono anche le persone da casa diciamo collegate online obs dunque devi cliccare su condividi schermo allora arrivo scusa hai ragione un attimo che non condivido io non mi trovo condivido io e tu parli ma così facciamo prima ok ok allora dicevo che questi sono conti di Marco Giusti stava riportando quello che è l'obiettivo come richiesto da RSE che è ricerca sistema energia che è un ente del ministero dell'economia e finanza e in cui avevano fatto delle ipotesi perché l'Italia riuscisse nel 2050 a decarbonizzare complessivamente tutto quanto quindi fosse tutto quanto senza nessun carburante fossile per fare questo c'era necessità di crescere nettamente come generazione di energia elettrica e sarebbero serviti 650 terravattora complessivi di cui 350 da fotovoltaico e 160 da eolico questo era la quantità complessiva e qui Marco Giusti è andato a fare un pochettino di conti su che cosa significava rispettivamente e i 350 terravattora da fotovoltaico significa moltiplicare per 12 l'attuale generazione del fotovoltaico e servono 3300 chilometri quadrati che è l'1,1% del territorio nazionale quindi significa non bastano i tetti tanta gente dice bastano i tetti non bastano i tetti bisogna avere degli impianti solari dedicati e anche parecchi e probabilmente a questo punto visto il dato che diceva di quantità di ore di sole probabilmente sarebbero preferibili nel sud d'Italia e l'altra cosa importante era che per l'eolico servono un mucchio di aerogeneratori quelli di nuova costruzione da 5 megawatt per buona parte degli impianti si può ripensare a un repowering di quelli esistenti difatti ricambiando sostanzialmente gli impianti esistenti con quelli di nuova generazione si ottengono ben 45 terawattora però il resto deve arrivare da impianti che o stanno sui crinali e sarebbero praticamente dovremmo avere l'appennino pieno di diciamo di generatori se no la cosa che potrebbe invece aiutare molto sarebbero gli impianti offshore anche qui sappiamo che ci sono molte contestazioni nel fatto di avere questi impianti ma avremmo di buono da un punto di vista italiano il fatto che potremmo avere una filiera industriale locale che da un lato si sviluppa e quindi fornisce dei posti di lavoro perché se vai a togliere l'automotive se vai a togliere un mucchio di cose che riguarda attualmente la generazione di energia da carburanti fossili significa che tanta gente ahimè sta a casa invece se tu riesci a ricreare una filiera locale industriale chiaramente riesci a trovare il modo di riformare localmente dei posti di lavoro e quindi gli impianti offshore avrebbero la possibilità di ricreare questa catena locale che in questo momento non c'è oltre al fatto di poter pensare anche a un'esportazione e niente quindi questo qui era soltanto un contributo di una cosa che ho visto recentemente che però significa che i numeri devono essere grossissimi e quindi significa di avere tanti aerogeneratori tanti impianti fotovoltaici e però è l'unico modo che possiamo avere se diciamo che questi sono i dati richiesti dal Ministero dell'Economia sostanzialmente tramite questa ditta RSE però l'altra considerazione secondo me è che quello che deve invece non dobbiamo arrivare ad avere questi consumi ma dobbiamo come minimo cercare di dimezzarli perché se no voglio dire abbiamo delle spese notevoli per ricreare tutta questa infrastruttura e poi abbiamo degli impatti comunque locali notevoli grazie grazie Marco di questo contributo che ovviamente richiede ulteriori approfondimenti perché poi sono d'accordo con quello che tu hai detto in finale che bisogna anche ripensare a quale modello di sviluppo vogliamo in qualche modo continuare ecco io ringrazio tutti i partecipanti e vi annuncio l'incontro di martedì prossimo c'è una domanda di Pinuccia va bene scusa Pinuccia prego no no volevo visto che ho l'occasione di avere diciamo un chimico un ingegnere una matematica allora volevo a disposizione no volevo volevo sull'economia circolare mi aveva segnalato Paolo Cacciari un libro che io ho letto diciamo un po' faticosamente ma un libro che ha questo titolo l'impossibilità dell'economia circolare in cui in questo testo che è molto complesso perché è frutto di moltissimi contributi sostanzialmente si dice da un lato che l'economia circolare renderà possibile la dematerializzazione quindi per noi che ragioniamo sulla fine delle fonti fossili la fine cioè l'esaurimento delle risorse la dematerializzazione può essere una risposta positiva ma purtroppo tutto questo cozza con il principio dice l'esagerazione dell'economia circolare alcune affermazioni dell'economia circolare sono in conflitto con la realtà fisica in particolare con la seconda legge della termodinamica ed è qui la domanda proprio questa è la domanda che volevo fare quindi in primo luogo ovviamente a Giovanna ma anche poi a Enzo che ha parlato di questo e anche a Federico che è esperto appunto dal punto di vista anche chimico perché veramente questo è un tema che mi rode molto cioè ovviamente è importante l'economia circolare e rimane importante anche nel testo nei vari contributi però ne viene messo in evidenza questo aspetto che per me è veramente problematico fine allora un secondo principio lascio a Enzo perché comunque diciamo che il principio su cui si basa l'economia circolare è l'allungamento di ciclo di vita dei prodotti e quindi voglio dire qualunque operazione allunga il ciclo di vita dei prodotti crea meno rifiuti richiede meno risorse naturali da estrarre e comunque ha un impatto su tutti dei costi esterni che tutte queste operazioni lineari producono naturalmente l'economia circolare ha delle critiche ha dei limiti come ho detto non si può ottenere la circolarità totale perché non è possibile dal punto di vista fisico nullo si crea nulla si distrugge e tutto si trasforma qualcuno diceva tutto si copia e incolla però era un modo di dire un po' un po' scherzoso comunque nulla si crea nulla si distrugge la materia è limitata e dobbiamo cercare di tenercela da conto e quindi scusate io ho il gatto e quindi levo il gatto e quindi diciamo è chiaro che l'economia circolare spinta all'estremo può comunque creare dei problemi da altre parti però secondo me circolarizzare l'economia o comunque tendere a circolarizzare l'economia è obbligatorio cioè Alec MacArthur ci aveva tanta acqua tanto pane la batteria dei suoi strumenti quelle erano risorse limitate se noi diciamo le consumiamo poi dovremmo andare su Marte se riusciamo o altrimenti certe materie non si riproducono adesso passo la parola a Enzo che vi risponderà sui qui abbiamo abbiamo due fisici perché c'è anche Maria Teresa è ingegnere è vero Maria Teresa fisica esatto è Maria Teresa fisica quindi anche Maria Teresa è coinvolta abbiamo Marco abbiamo Maria Teresa che a un certo punto penso che il secondo principio della termodinamica viene sempre tirato fuori quando si vuole ostacolare qualche cosa secondo me quando si vuole dire che non si crede in qualche cosa allora aumenta l'entropia è chiaro che anche nell'economia circolare ce l'ha fatto vedere Giovanna alla fine ci sono dei rifiuti no? non puoi continuare per usare la parafrasi della nonna non puoi continuare a riciclare all'infinito lo stesso la stessa stoffa dello stesso vestito no? alla fine dovrà necessariamente andare nei rifiuti e quella è l'aumento di entropia dell'universo diciamo ma che nulla si crea nulla si distrugge è una banalizzazione ma è verissimo io non ci rido affatto sopra insomma quindi se poi ogni frase è tirata fuori dal contesto la puoi un po' tirare come vuoi insomma quindi non lo so vorrei sapere cosa intendeva quel signore secondo me va benissimo anche col secondo principio della termodinamica l'economia circolare di più di questo non mi azzarderei a dire comunque nel campo nel campo industriale io ricordo che all'inizio cos'era fine del secolo scorso più o meno nei nei capitolati che faceva l'EDEF che è l'Enel francese veniva veniva richiesto praticamente di avere siccome era l'inizio in cui dei sistemi automatici di regolazione via dicendo richiedevano i pezzi di ricambio per 30 anni cioè questo era obbligatorio quando si dovevano si dovevano praticamente garantire per 30 anni cosa che poi banalmente non ha fatto nessuno perché poi al di là di tutto magari si tenevano i pezzi di ricambio però cambiavano il software per cui software e Argo non andavano bene insieme però era una richiesta di fare obsolescenza eh sì però la richiesta la richiesta era quella proprio in vista di allungare la vita dei prodotti 30 anni Maria Rosa Ronzo quindi se magari mi pare che adesso per esempio la richiesta sia di pezzi di ricambio per 10 anni quando praticamente una lavatrice dura 6 anni e un frigorifero forse 8 quindi in realtà si butta prima via frigorifero di poter cambiare il pezzo ma quella è la obsolescenza programmata che citavi tu prima e quindi diciamo non perché non ce la farebbe ma perché è programmata per arrivare a fine vita dopo 6 anni anche con trucchi suddoli eh certo vi faccio notare proprio a proposito di questo discorso che la Apple è stata multata dall'antitrust europea per miliardi di euro per questa cosa perché programmava gli iPhone per non funzionare più dopo due anni sì era venuto fuori dei stampanti che avevano un chip che qualcuno sapeva come manomettere e quindi ricominciava a funzionare c'era un chip che prevedeva lo toglievano toglievano il chip e la stampante riprendeva a funzionare c'è Maria Rosa ha chiesto la parola solo devi avere un mistero la voce Maria Rosa scusate buonasera a tutti avevo una domanda per Enzo posso? sì parlando di decarbonizzazione non so se mi è sfuggito ma non abbiamo parlato della cattura della CO2 io che è un tema molto attuale credo che andrebbe affrontato ho partecipato a un tavolo la settimana scorsa di discussione e erano presenti molte professionalità italiane importanti del mondo dell'industria delle attività industriali che hanno insomma hanno ribattuto come non sarà così immediata l'uscita dal motore endotermico come delle opportunità che sono offerte dalla cattura della CO2 questa cosa mi è stata mi è rimbalzata all'occhio perché visitando il sito del ministero dell'ambiente tedesco ho trovato un post molto importante sul sito che dice praticamente che la cattura della CO2 non può impedire l'uscita dalle fonti fossili quindi è un tema che viene molto dibattuto anche attualmente in Germania per cui volevo chiedere a Enzo cosa ne pensava grazie allora i primi studi del sequestro della CO2 risalgono a 1990 quindi sono dei progetti estremamente vecchi poi sono stati trascinati per anni per anni adesso sono tornati sono tornati di moda direi che ci sono numerosi problemi dietro non è che poi non è neanche che sia così immediatamente economico il tutto se ne parla anche a livello di navi quindi per quanto riguarda appunto la possibilità di sequestrare la la CO2 e poi scaricarla quando arrivi nei porti idonei ecco va più di moda forse quella che chiamano la CCU che sarebbe la Carbon Capture Utilization cioè nei casi in cui posso diciamo l'industria sia interessata per questioni chimiche via dicendo ad utilizzare la CO2 quindi quelli sono senz'altro più vantaggioso sequestro della CO2 ci ha messo tanto per per farlo probabilmente è un mezzo per cercare di ritardare la decarbonizzazione questa è la mia la mia impressione però ci sono dei testi veramente molto molto vecchi a livello così di PowerGen che è una grossa fiera internazionale diciamo degli utilizzatori dei generatori di energia se ne parla da più di vent'anni ecco non se fosse hanno fatto anche dei progetti pilota soprattutto in Inghilterra e credo negli Stati Uniti poi non non sembra così facile riuscire a tenere poi la la CO2 dentro per sempre quindi si presuppone anche che prima o poi trovi la via per per uscire non ne so di più i temi sono molto importanti potremmo anche discuterne più a lungo da chimico penso di poter ribadire il concetto che nulla si crea nulla si distrugge perché poi la materia questa caratteristica e quindi questa è una cosa è anche vero che nulla è infinito e anche noi il nostro sistema ancora prima però probabilmente crollerà il nostro sistema economico e anche perché così è sempre avvenuto insomma delle come dire delle varie specie che hanno popolato il pianeta che si sono alternati nel cielo di qualche milione di anni l'uno dall'altro quindi abbiamo questo ciclo della vita che comunque continuerà forse anche dopo di noi e comunque continuiamo a parlarne noi il prossimo appuntamento sarà martedì prossimo avremo come ospiti appunto Maria Rosa Ronzoni e Daniela Padoan e il tema è i parametri ambientali elementi per superare la criticità e per superare la criticità ci darà una mano una riflessione sulla laudato sì che mi sembra anche come dire un buon modo per ragionare su cosa ci aspetta grazie a tutti e buona serata grazie Federico grazie grazie Christopher grazie Maria Teresa e grazie a tutti gli altri grazie a tutti